E' lui! Ma lui, lui? Nui, lui. Ha le mani da re. Dovrebbe portare un anello. Mio figlio lo studierà nei libri a scuola. Incredibile. Quando è che lo posso incontrare? Nell'aldilà. Secondo te lui pianta? Ma non è così basso come dicono? Fresco pensiero, orientale generosità, suo adenco e sorriso. Con questi occhi nuovi ha un fascino medio orientale. Io vorrei abitare nel suo cervello. Hai visto quanti libri si sono presi la briga di scrivere contro di me? La sinistra non riesce a mettermi a fuoco. Pensa che tutto sia sempre complesso. E invece è tutto così elementare. E invece è un c'innovio. Grazie a tutti